Domenica pomeriggio a Mangia, un evento che riguarda le celebrazioni dei 700 anni di Dante. Come mai Mangia e Dante hanno una correlazione? Tanto bisogna ringraziare Mangia Trekking, l'associazione che dal nome stesso si ricollega a Mangia, che ha voluto questa manifestazione, che collega anzitutto Dante a quella che abbiamo chiamato la Valle dei Sentieri. La Valle dei Sentieri e la Valle dei Sentieri, intendiamoci tutte le valli appennini che sono a modo loro valli dei sentieri, ma forse la Valle dei Sentieri ha un po' di più, proprio per i collegamenti che la legano all'alta Val di Magra, che la legano all'altro crinale degli appennini, di questa Levante Ligure, e che in qualche modo, come spiegherà in particolare Manu Guerra, la legano alla vicenda di Dante. Dante è stato in Lunigiana, è stato in Lunigiana durante il suo esilio, ma in Lunigiana ci sono stati i Cerchi, una famiglia venuta via da Firenze in quegli anni, sempre per ragioni politiche, che si è poi stanziata a Mangia e proprio lì, in quella terra che era dei monaci colombagnani, dei monaci di Brugnato, è rimasta fino ad oggi praticamente, sia pure diffondendosi poi anche in altre località della Val di Vara. E quindi attraverso questa storia e attraverso Dante si recupererà una dimensione importante dell'ambiente, della civiltà e della storia della Val di Vara. Una storia che ancora oggi ha 700 anni il suo fascino. Sì, e dei risvolti ancora da scoprire e da approfondire. Di Dante sull'Alta Via dei Monti Liguri non è mai stato trattato, però c'è un riferimento importante che è il famoso verso del purgatorio terzo dall'Erice a Turbia che ricalca, come spiegherò in dettaglio poi domenica, l'itinerario della tabula petingheriana dove c'è il famoso enigma della stazione di Boron. Ecco, Boron è un monte a est di Nizza, quindi si dimostra che la geografia che aveva in testa un uomo come Dante è ancora quella della Roma imperiale. Quindi cose notevolissime. Un evento significativo organizzato da Mangia Trekking. Abbiamo studiato bene le nostre origini e abbiamo ricollegato che la fondazione, la costruzione del paese dove noi abbiamo la sede, dove viviamo, è dovuta proprio alla famiglia Cerchi. Quindi abbiamo richiamato due illustre personalità a raccontarci ciò che è accaduto per fare chiarezza su quelli che sono importanti elementi storici.